Ciao ragazzi, oggi si chiude un'era. Che cosa intendo? Ultimo episodio di StumbleGuys del mio canale YouTube, almeno per ora. Vi spiegherò meglio all'interno del video, ma guardate tutto il video fino alla fine, soprattutto coloro che mi seguono su StumbleGuys da tantissimo tempo. Qua trovate una playlist veramente lunga, con tutti i video che ho fatto di StumbleGuys, un gioco che mi ha fatto esplodere nell'estate dell'anno scorso, che mi ha fatto arrivare ai 20.000 iscritti, ma che non mi sta più regalando nulla e che non sta più regalando nulla, soprattutto a voi. Ed è per questo che purtroppo devo annunciare la fine di quella che è la serie di StumbleGuys, non porterò più video news, purtroppo non è un gioco che attualmente attira. Potrebbe uscire un video ogni tanto, magari su qualcosina di carino, ma non mi ispira più. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perderevi i prossimi giochi, che sono molto molto importanti. Ma questo, ragazzi, è l'ultimo video di StumbleGuys. Un video molto molto triste, perché inizia così, inizia con un gioco che mi ha dato molto. Cioè, ragazzi, a me StumbleGuys mi ha dato veramente tanto, mi ha permesso di esplodere, a tutti gli effetti. Mi ha dato un grande aiuto, però, ragazzi, come vedrete adesso, non è cambiato assolutamente niente. Hanno aggiunto gli StumbleMitici, sicuramente hanno fatto tutte le determinate cose che hanno invogliato la gente a giocare sempre di più. Lo sapete bene, hanno portato le ruote gratis, hanno aggiunto tutte delle ruote particolari. Vedete, le ruote come adesso danno effettivamente molto 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 rispetto a quanto davano una volta. Quindi questo sicuramente è un grande passo in avanti. Ci sono le solite due, me l'avete detto in tanti, di ruote classiche gratis. Io sinceramente sono un po' triste, perché a me StumbleGuys, lo sapete, è un gioco che mi ha preso a cuore. E la Scopli sta facendo un ottimo lavoro con un altro suo gioco. Quindi se siete amanti di Scopli, non lo sapete, ma io sono uno dei creator più avanti su YouTube Italia riguardo a Monopoly Go. Ho portato un sacco di tutorial, li trovi tutti sul mio canale, quindi vateli a recuperare se te li fossi persi. In questo caso oggi andremo a fare una partita, una partita chill di StumbleGuys, una delle tante che abbiamo fatto in passato. Lo sapete quanto io ho speso tempo su questo gioco, sono arrivato a 8340 trofei, niente male. All'interno del negozio ho riscosso tutto quello che c'è da riscuotere. Continuano ad aggiungere eventi, continuano ad aggiungere Rocket Rumble, cose di questo genere. Pass, non pass, insomma hanno cercato di modificare, di aggiungere sempre più cose. Ma il risultato di tutto questo è un semplice casino. Quindi io sinceramente col casino non vado tanto d'accordo e per adesso ragazzi la situazione Brawl Stars è stata, cioè StumbleGuys è stata messa un attimo in sospensione per dare spazio a Brawl Stars. Quindi il ruolo che aveva StumbleGuys prima adesso lo assumerà Brawl Stars, almeno per adesso. Naturalmente se dovesse arrivare un aggiornamento che porta tutta la community a giocare a StumbleGuys e che mi fa venire nuovamente voglia di giocare, sarò il primo a portarvi un contenuto. Voi come al solito mi raccomando seguitemi su TikTok, mentre come vedete il gioco non è cambiato, i bug sono sempre gli stessi, 25 minuti per trovare una mappa. Capite bene che non va assolutamente nelle linee di quelle che sono i giochi del momento. Ormai la gente vuole tutto subito, non ha intenzione di aspettare. Mentre entriamo in una delle mappe che ragazzi, non so se chi mi segue dall'inizio si ricorda, ma era una delle mappe che io proprio non avevo idea e tuttora ragazzi non ho idea di come si giochi. Django Roll, quindi nel caso qualcuno di voi avesse delle idee chiare, commentate qua sotto. Non so quanto ci giocherò ancora a StumbleGuys, ma comunque potrebbe essere sempre utile avere delle nozioni in più su come possono essere uffate delle mappe, insomma. Certamente se te uno arriva alla fine e poi quello che ti prendi è una botta in faccia, passa anche la voglia, posso dire? Passa un po' anche la voglia e continuo ragazzi a cadere. Quindi mi sa che ragazzi questa partita finirà come una delle tante perse da parte del Vapor in maniera abbastanza ignobile per quanto mi riguarda. Il Vapor è veramente scarso su StumbleGuys. Io mi ricordo che alcuni miei iscritti erano veramente forti, ma non importa, possiamo anche perdere tranquillamente le partite, va bene lo stesso. Ho visto che hanno inserito un per due, molto interessante, un per due che ci permette di ottenere il doppio delle ricompense ottenute in una sola partita guardando un semplice video e ci ottiene il per due. Tutto questo perché neanche ve lo sto a dire, farò anche l'ultimo spin opening su StumbleGuys, sinceramente voglio farlo. Quindi ne andrò ad aprire ben tre così, così random. Ne voglio aprire tre così, tre giri fortunati epici alla ricerca di qualcosina. Non so se comunque avete notato anche voi, ma i colori sono diventati un po' più scuri, almeno forse è una mia sensazione, ma li noto molto molto più scuri. Mentre qua continuano ad arrivare doppioni su doppioni, una schifezzuola unica, ti prego dammi una speciale, niente. Volevo chiudere l'ultimo video di StumbleGuys con una speciale, mi ha dato tre doppioni, tre schifezzuole, che però ci danno l'opportunità di andare ad aprire altri due spin, che sono gli ultimi due perché spero che mi dia qualcosa di nuovo, ti prego. Un altro doppione, e ragazzi mi sa che arriverà un altro doppione. Incredibile, cioè ho aperto tantissime, veramente tante, ruote e non me ne è uscita nessuna nuova. Vai poi all'interno del negozio dove ti dirai Vapor, ma sicuramente te ne mancheranno poche. Vai qua ragazzi, cioè me ne mancano una barca. Sia di leggendari che mitiche, cioè no... E poi uno non si deve arrivare a arrabbiare, capito? Cioè non va bene, non va bene. Comunque queste nuove skin sono quelle mitiche, molto molto interessanti, sono Sereia, Emoji Jutsu e Hot Gloves MCO. Naturalmente sono molto molto difficili da trovare, quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete una skin mitica, perché personalmente non ho ancora incontrato nessuno che ce l'abbia. C'è poi il solito gruppo, creator, amici, non amici, ma ragazzi. Che tristezza, io veramente su StumbleGuys ci ho lasciato un pezzo di cuore, perché mi ha accompagnato molto e mi ha permesso soprattutto a un buon ricordo dal punto di vista del canale e soprattutto molte, molte visualizzazioni provengono proprio da StumbleGuys. E ci sta, che ci sta, perché ragazzi, oggettivamente StumbleGuys è stato un bel gioco. Il problema è che se viene acquistato, chi lo acquista deve saper mantenere, deve saper ascoltare la community. Ditemi cosa serve questo livello 20. Cioè ragazzi, questo livello 20 risale all'anno scorso e non è mai stato cambiato. Capite bene che siamo arrivati ad un certo punto dove cambia qualcosa. Porca miseriaccia l'Aida, se no rimaniamo attaccati al pero, eh. Cioè, qua è la fine dei nostri giorni se te non cambia niente. Questa personalmente è una mia opinione personale, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, come al solito, eh. Però io, per come la vedo io, dovrebbero cambiare qualcosa. Il giornale, il solito notizuale, Twitter, sono le stesse cose del giornale. Ormai non ha neanche senso andare a vedere Twitter. E questo, ragazzi, era il video di oggi. Un video triste, si chiude a quindi un'era, si chiude la StumbleGuys era per quanto mi riguarda. E sono molto triste di ciò. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, perché sono molto, molto curioso. Ci state ancora giocando? Quanto tempo ci dedicate al giorno? Oppure è caduto nel dimenticatoio anche voi? Mi raccomando, ragazzi, lasciate like, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo domani alle ore 14 con un nuovo video. Ciao belli!